Il settore prodotto di oggi si chiama Perdizione e si trova sotto la prete Ghiacciata nel promontario di Cadmo Come per i settori precedenti all'inizio Avremo a disposizione 3 reanimazioni Ogni campione sconfitto ce ne fornirà Una in più ma dopo 15 minuti Non potremo più reanimarci Parlando del setup che ho utilizzato dovete innanzitutto Sapere che nel settore incontrerete molte arpie Con scudo ad arco e due minotauri con scudo a vuoto Tuttavia io non ho incluso Armi da vuoto nel mio loadout Che era composto da una mitaglietta primaria con proiettili Antibarriera, un automatico secondario Con proiettili sovraccarico e l'anarchia Come pesante Il tutto accompagnato dal ramo alto del martello di sol Dopo qualche tentativo ho deciso di non includere Un'arma a vuoto nel setup per due motivi Il primo è che in tutto il settore Ci sono solo due nemici con scudo a vuoto Mentre invece troviamo almeno 20 arpie Con scudo ad arco Il secondo è che non ho potuto rinunciare all'anarchia Che dà un vantaggio non indifferente Nello sconfiggere tutti i mob con una vita abbastanza alta Per ovviare a tutte le esigenze Ho provato ad utilizzare la ghigliottina calente Che però va usata sotto ai nemici E di conseguenza ci espone apertamente ai danni Più avanti vedremo poi come ho affrontato Il dominio tavoli da vuoto Come per il settore scorso Ho sfruttato anche la combo di modifiche Sovraccarico termico e divoratore di ondata L'una che ci permette di stannare i campioni Sovraccarichi con la granata E l'altra che la ricarica ogni volta Che un sovraccarico viene stannato Un ultimo consiglio che vi do prima di iniziare È di utilizzare il perk di disorientamento degli scudi Sulla secondaria Grazie a questo ogni volta che romperemo uno scudo elementale Con l'arma in questione Il nemico colpito e tutti quelli intorno Verranno stannati per circa 2-3 secondi Come potete vedere mi è stato molto utile Per pulire le arpie Che di per sé non mi hanno quasi mai sparato Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio Come completare il settore Sponati ci ritroveremo davanti a un gruppo di arpie E a un idra con parecchia vita La prima cosa da fare è salire su queste scale Che vi permetteranno di rimanere coperti Dalla maggior parte dei nemici E attaccare due colpi di anarchia all'idra Che dopo poco si sposterà più avanti Lasciandovi indisturbati a pulire le arpie Che come potete vedere Con disorientamento degli scudi È veramente un gioco da ragazzi Uccise tutte le arpie Incontreremo il primo minotauro da vuoto Il metodo che ho usato per abbatterlo In realtà è stato totalmente casuale Avendo droppato degli schienili peregrini a luce alta Gli occupaggiati ho sfruttato il perk Che ci permette di fare più danno Utilizzando la spallata in aria Per togliere lo scudo al minotauro E finirlo quasi istantaneamente con un colpo di anarchia Fatto ciò In fondo al corridoio ci sarà ancora l'idra Che basterà finire con qualche altro colpo Fate attenzione però Perché non appena vi finirete Sponerà la seconda ondata di nemici Tra cui il primo minotauro sovraccarico Per questo ho utilizzato la stessa tecnica Dello scorso settore Ovvero sfruttare la combo di modifiche per le granate Per stannarlo continuamente E fare danno con l'anarchia Per evitare di buttare granate Ho utilizzato la fusione Che però ogni tanto non funzionava E dovevo quindi andare di automatico In ogni caso tra l'uno e l'altro Sarà l'anarchia a fare il grosso del lavoro In tutto ciò mi raccomando di fare attenzione Agli half goblin in fondo al corridoio Che con due colpi di cecchino Vi manderanno al tappeto Pulita la prima stanza Possiamo passare alla seconda Salite le scale quindi La prima cosa da fare È uccidere i fanatici Per eliminare una buona fetta di mob A questo punto Il problema saranno i due minotauri Uno sovraccarico E uno da vuoto Il mio consiglio È quello di attirare quello da vuoto In fondo alle scale Per poterlo abbattere comodamente Con la spalla dell'anarchia Per poi fare lo stesso Uno del sovraccarico Utilizzando le granate In questo modo Prodete concentrarvi su di loro Senza venire disturbati dagli altri mob Attenzione però Perché una volta fatti i minotauri Sponeranno due viverni Pronti a sciottarvi Senza pensarci troppo Queste vanno facilmente giù Con due colpi di anarchia a testa Occhio però Ad evitare i cannoni A cui basterà un colpo Per distruggervi Pulita quindi la seconda stanza Rimarranno da fare I due bigoblin barriera Il mio consiglio È di sfruttare le casse Per coprirvi da quello Sulla balconata sinistra E concentrarvi Prima su quello di destra Facendo sempre attenzione Perché attivata la barriera Verranno colti da una furia omicida E spammeranno colpi a non finire Abbattute le difese però Ci vorrà poco per terminarli Arriviamo finalmente Alla stanza del boss Che tra le tre È sicuramente la più facile Qui vi basterà pulire Goblin e arpie Che come al solito Con disorientamento degli scudi Nemmeno vi considereranno Per farlo senza venire Disturbati dal boss Vi consiglio questa rientranza Sulla destra Dove non verrete Praticamente colpiti Pulito tutto Iniziate a fare danno al boss Con qualunque cosa abbiate Rimanendo sempre a debita distanza Per evitare di essere frantumati E ricordandovi che Verso la metà della vita Sponerà un'altra ondata di nemici Uccisi tutti Vi basterà aprire la cassa E avrete completato il settore Prima di terminare Faccio una piccola precisazione Sulla super Io ho utilizzato il ramo alto Del martello Per due motivi principali Il primo È che la modifica Della granata sovraccarica Ha bisogno di una sottoclasse Solare O da stasi E il secondo È che per gli schieneri Peregrini Serve una spallata Vada se quindi Che questa Era l'unica alternativa Nonostante la super Non sia essenziale Magari il momento migliore Per utilizzarla È l'inizio Della seconda stanza Dove troverete Meno nemici Con scudo elementale E quindi potete pulire Qualche mob senza fatica Quindi ragazzi Io spero che il video Vi sia stato utile Vi ricordo di iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto Di attivare la campanellina Per rimanere sempre Aggiornati sui video in uscita E detto questo Noi ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua Salvezza